Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. In direzione Roma, rallentamenti per materiali dispersi tra Firenze Scandicci e Firenze Imprunita. A causa delle forti piogge, fare attenzione per allagamenti segnalati tra Valtarno e Arezzo. Sulla A11, rallentamenti tra Firenze Ovest e Prato Est, in direzione Pisa per un veicolo in avaria. E per materiali dispersi, tra il Bivio per la A12 e il Bivio per Viareggio, in direzione Firenze. Sulla corda autostradale Siena-Firenze, per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo, tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.